Con un nuovo caso riscontrato nella giornata di ieri dalla Asle di Teramo salgono a 85 i casi di positività al Covid-19 nel comune di Castiglione Messerra e Mondo, a cui si aggiunge il pesante dato dei 15 decessi. Dunque, dopo un periodo di tregua nel centro della Valfino, torna l'incubo contagi. Sì, dopo alcune settimane, ieri abbiamo avuto un nuovo caso positivo, rassicuro la popolazione in quanto questo caso è isolato, non ha una nuova fonte, il paziente era monitorato già da alcune settimane, abbiamo avuto risultato positivo, però non siamo preoccupati. Certo è che dobbiamo continuare a stare attenti e a rispettare tutte le regole in modo ferrio. Esclusa dall'indagine sierologica della Croce Rossa italiana, molti cittadini in questi giorni hanno provveduto a sottoporsi al test a proprie spese. Dai risultati, emerso come quasi 200 abitanti di Castiglione abbiano avuto riscontri positivi dai test, accertando la presenza nel sangue di anticorpi del nuovo SARS-CoV-2. Molti cittadini, per vedere se hanno avuto contatto col Covid-19, hanno scelto di fare questi test sierologici a livello privato e molti hanno sviluppato gli anticorpi. Adesso sono comunque sani, però hanno sviluppato gli anticorpi, ciò significa che hanno avuto il Covid. Sì, ci dispiace, ma su questo non mi sento di fare polemica, perché evidentemente hanno scelto un criterio, penso matematico, per avere un campione veritiero della nazione italiana. Quindi evidentemente nessun comune della Valfino poteva rientrare in questo campione. Per questo, in quei giorni abbiamo chiesto ad altavoce i tamponi per tutti, per avere questa fotografia subito in quel momento. Adesso l'abbiamo post-datata, sì, è utile, però forse sarebbe stata utile in quei giorni avere i tamponi a tappeto. L'impatto del nuovo coronavirus su questo paese di circa 2.000 persone è stato devastante sia a livello sanitario ma anche a livello economico. Ed è scritta dallo stesso sindaco a fine maggio anche al ministro dell'interno Luciano Lamorgese. Oltre a spiegare le problematiche del mio comune, che è quello più colpito per rapporto tra abitanti e positivi in Abruzzo, ho anche spiegato quali sono le problematiche che hanno vissuto tutte le zone rosse abruzzesi, sia quella vestina che quella della Valfino in generale, anche la stessa frazione di Caldari. Il ministro ha espresso la volontà sia sua che del governo di andare a rivedere in sede di conversione gli aiuti per tutte le zone rosse a livello nazionale. Ci sarà l'impegno del governo ad andare a coprire e a indennizzare queste zone rosse, perché non possiamo avere zone rosse di serie A e di serie B, perché comunque il Covid si è comportato, ahimè, uguale in tutta Italia.